L'accesso al pannello di gestione è permesso con privilegi di amministratore tramite codice cliente e password con OTP. L'utente amministratore può creare delle sottoutenze che chiameremo utenti delegati, con privilegi limitati. Dal menu Gestisci, clicchiamo su Utenti delegati, quindi su Aggiungi utente. Possiamo creare un utente con delega standard, ovvero che accede a tutti i servizi, ma con una profilazione che può essere amministratore. Ha gli stessi poteri dell'utenza principale, tecnico, abilitato alla gestione tecnica di hosting, DNS, posta e cloud. Commerciale, abilitato ad effettuare acquisti, disdette, rinnovi, fatture, ordini, informazioni commerciali. Solo lettura visualizza ordini e servizi. Non è abilitato alla gestione tecnica e commerciale. In alternativa, possiamo creare un utente con accesso tecnico limitato ad uno o più domini dei tuoi piani cloud hosting. In ogni momento, come amministratore, puoi abilitare o disattivare nuovi utenti.